Il 12 giugno vai a votare per il referendum sulla giustizia e vota sì. Io voto sì in particolare sul quesito che riguarda la valutazione dei magistrati, perché anche gli avvocati e i professori possano valutare l'operato dei magistrati che oggi è sottoposto al vaglio solo dei loro colleghi. La delicatezza del lavoro dei magistrati impone un'oggettiva ed equilibrata valutazione che può essere tale solo se si allarga la rosa degli esaminatori. Vota sì comunque a tutti e cinque i quesiti. Vai a votare il 12 giugno per una giustizia giusta e vota sì a tutti i quesiti.